Musica Buonasera dottor Dri, ben ritrovato, amministratore delegato di gruppo Servizi Associati che ha la sede a Ferretto Umberto. E qui il nostro ospite questa sera, buonasera a lei, il nostro ospite per parlare di LPU, intanto ci faccio una cortesia, ci spieghi cosa consiste, gli amici a casa magari non lo sanno, di cosa si tratta LPU e qual è il suo rapporto con l'azienda GSA. Bene, allora premessa, intanto ringrazio, vi ringrazio dell'invito, è un piacere poter essere presenti in tv, essere presenti nella vostra televisione e a presentare di fatto un'attività che in questo momento credo che abbia un'importanza da ben evidenziare. Che cos'è, cosa sono i lavori di pubblica utilità? È una forma che la Regione Filonezza Giulia, attraverso il contributo della Comunità Economica Europea e comunque nell'ambito di una progettualità più ampia, ha portato per permettere a persone che hanno, che nel momento non sono nel mondo del lavoro e che quindi risultano essere disoccupate, di poterle ricollocare nel mondo del lavoro, da una porta principale con una prospettiva di reinserimento a medio termine e in questo senso sono stati fatti dei bandi. Come gruppo servizi associati abbiamo partecipato, abbiamo partecipato a questi bandi, siamo stati, risultati, soggetto attuatore di una quota a parte importante di questi. Come le dico, gli argomenti principali sono permettere a persone disoccupate che non hanno in questo momento molte, visto il momento economico difficile e nello specifico il momento particolarmente difficile per quanto riguarda l'ambito del lavoro, ecco appunto dicevo a queste persone di essere ricollocate nel mondo del lavoro. Come soggetto attuatore GSA crede proprio per la sua presenza, come mi ricordava lei, importante sulla regione perché noi partiamo da questa regione, abbiamo la sede, la direzione generale in Filonezza Giulia, siamo una società, Friuli Venezia Giulia centrica se posso permettermi, è chiaro che diventa per noi importante dare un riscontro sul territorio, da dove partiamo e dove siamo presenti. Non le nego che noi oggi come oggi stiamo impiegando in Italia circa 2200 persone, quindi abbiamo circa 2200 dipendenti, è importante dare il nostro contributo per quanto ci è possibile nell'ambito del lavoro, nell'ambito della nostra regione, quindi la nostra presenza, la nostra partecipazione ai progetti LPU deve avere questo filo rosso che ci lega, cioè favorire il lavoro in Friuli Venezia Giulia. Ho offrito un'opportunità importante a persone che ne hanno bisogno, poi sta la loro intelligenza e bravura a sfruttare l'opportunità. Certamente che sì, prego. Parlavamo del territorio, quindi per voi anche un comune magari piccolo, con tutto rispetto, come sagrado, diventa un comune importante, e anche in questo caso parliamo di valorizzazione del patrimonio. Quindi per voi, insomma, Pravis Domini, Fagagna o sagrado che sia, piuttosto che Servignano, Gorizia, Udine, per voi è la stessa cosa, presumo. Ma parliamo di sagrado. Ma guardi, se posso permettermi una sottolineatura, diciamo che per noi ogni progetto ha una specificità, una esigenza di essere gestito al meglio. Quindi in realtà, quando lei mi parla di sagrado o mi parla degli altri comuni che ha poco anzi citato, io le dico che su ognuna di queste situazioni abbiamo un area manager, una persona che segue sia l'aspetto del tutoraggio del personale, sia i rapporti con il committente, che in questo caso sono i comuni stessi. Questo a far sì che l'intervento sia un intervento di assoluta coerenza con le esigenze operative che ha il comune stesso. Perché non dimentichiamo che in una stretta economica come questa, i comuni hanno una riduzione delle possibilità di investire su una serie di attività. Il minuto mantenimento, o chiamiamo tutto quello che possiamo dire valorizzazione del patrimonio comunale, sono stati nel corso degli anni, lo sappiamo, oggetto di riduzione continua di disponibilità economiche, per cui in realtà le stesse strutture comunali si trovano depauperate di professionalità, di numero stesso di addetti per questi argomenti. In questo senso gruppo servizi associati va a sopperire con questi progetti di più ad attività e pertanto ha un ruolo importante e sono ruoli che vengono gestiti quotidianamente con i comuni, con i nostri referenti e quindi in realtà il ruolo è importante e sono ruoli specifici su ogni struttura comunale, su ogni nostro committente di fatto. Il Comune di Sagrado ha fatto richiesta alla Regione, ai sensi del bando regionale, per inserire due persone disoccupate nel settore manutentivo del Comune di Sagrado. È un impegno nei confronti di un momento di crisi della nostra società e soprattutto del mondo del lavoro. Abbiamo realizzato questo progetto insieme alla società GSA e la collaborazione, devo dire, è veramente ottima. È un progetto importante perché a queste persone non solo dà la possibilità di integrare il loro reddito, ma anche di restare operativi a lavorare nel settore manutentivo. I nostri operai fanno anch'essi da tutor e mediano nei confronti della ditta e quindi devo dire che veramente l'esperienza è stata molto utile anche per il Comune, ma anche per queste persone che hanno veramente visto la necessità di rinserirsi nel mondo lavorativo. Sicuramente i fondi europei sono in questo momento, soprattutto per l'Italia e per altri paesi, una risorsa importante e quindi i fondi europei vanno sicuramente utilizzati in questo senso e per questo. Devo dire, posso dirlo personalmente, sono critica sul fatto che un fondo sociale europeo sia stato utilizzato per abbattere le quote latte, mentre avrebbe dovuto essere utilizzato proprio per questi servizi lavorativi. Giudizio personale ottimo, ho visto una grande collaborazione, anche gli uffici stessi che hanno curato il progetto me lo confermano, gli operai anche si sono trovati bene e quindi penso che è veramente un'esperienza utile per tutti ed è stato veramente un buon rapporto e continua ad essere un buon rapporto. Nello specifico abbiamo un progetto di manutenzione del verde pubblico, ma anche di sistemazione di alcune aree che altrimenti con i nostri operai non saremmo riusciti a realizzare. Quindi un aiuto ma anche un qualcosa in più, una qualità in più nella manutenzione ordinaria e straordinaria del comune. Grazie a tutti.